Siamo qui con il capitano degli Spikers, Adriano Staffolani, ci ha rilasciato, ci vuole rilasciare questa intervista, abbiamo sentito ovviamente precedentemente per via telefonica, ci siamo riuniti qui per questa conferenza stampa di presentazione anche alla prossima stagione, anche varie domande sulla carriera fin qui di Staffolani, possiamo passare con domande se vuoi? Sì, sì, dai, spara. Allora capitano, diciamo che mancano ormai poco più di un paio di settimane all'inizio della stagione, di questa nuova stagione che quanto pare si prevede molto intensa già, si è visto dai primi allenamenti e dalla preparazione, e quali sono finora le tue sensazioni di questo andamento iniziale. Le sensazioni sono buone, nel senso che vedo un gruppo affiatato, voglioso di intraprendere questa nuova stagione, è anche più convinto forse degli anni scorsi, vedo più capacità forse a livello tecnico, potremmo prospettare una bella annata, sono ottimista. Quest'anno, come abbiamo potuto vedere, ci sono stati nuovi acquisti e anche dei vecchi ritorni, che cosa ne pensi di questo loro inserimento all'interno della squadra? Parlo ovviamente sia degli acquisti che, se vuoi, anche un tuo parere sui vecchi ritorni come Monia, per esempio, Marco. Sui nuovi acquisti sono favorevolmente sorpresi, anche se di sé per sé non era una sorpresa, visto che sono comunque in parte ragazzi che hanno già giocato a pallavolo e giocano comunque da parecchio tempo, si è visto negli allenamenti che comunque posseggono una grande dote tecnica. Puoi farci un nome in particolare, se vuoi? Parlo di Adriano, parlo di Lorenzo, parlo anche di Meri, per esempio, che si è inserita a dir poco bene, insomma. Per quanto riguarda invece i vecchi ritorni, sono contento del ritorno di Marco, sono contento del ritorno di Monia, che se giocasse qualche partita in più, magari, se ritornasse quella di un tempo, lei sicuramente mi maledirà per questo. Di Marco anche sono contento, perché comunque lui ci mette tanto impegno e vedo in lui comunque una grande voglia di riprendere quello che aveva lasciato qualche tempo fa. Possiamo dire che con me sei una leggenda vivente per gli Spikers, quindi è il tuo quinto anno, mentre sei l'unico che è rimasto da quando è iniziata la storia di questa squadra. sei diventato il capitano nel corso degli anni, hai fatto più di 50 partite in campionato e hai anche vinto un trofeo. Dove trovi gli stimoli per continuare ad andare avanti ogni anno che passa? Trovo gli stimoli nel giocare in questa squadra, come ho già detto anche negli anni precedenti, quando una cosa la vedi nascere, la vedi crescere, vuoi continuare a stare con lei, con la squadra e la senti un po' tua, senti un po' come se fosse un progetto alla fine. Mi piace il gruppo che si è creato, mi piace il mondo dell'amatoriale, che fino a 5 anni fa non conoscevo e onestamente ignoravo. Trovo stimoli ogni anno e continuerò a farlo, anche perché fondamentalmente mi piace il gioco della palla a volo, anche fuori dal livello agonistico. Ovviamente la tua esperienza è immensa, in questi 15 anni di palla a volo ricordiamo gli inizi con il mini volley, con l'attuale mister di Giulio, poi gli anni a Montrotondo con l'Atletico Wisp dove hai fatto tutte le divisioni praticamente e poi hai anche fatto parte dei migliori giocatori del liceo, della squadra di volley ovviamente e poi arrivai insomma agli Spikers. Quali sono secondo te i bei ricordi di quei momenti, di tutti i momenti passati insomma precedentemente e anche i brutti momenti, se me ne puoi dire uno o più di uno insomma? Allora, partiamo dai bei momenti, nel senso che bello è stato quando ho cominciato a giocare la palla a volo con il mister Di Giulio che aveva appena 8 o 9 anni circa e diciamo eravamo tutti piccoli, eravamo tutti all'inizio, il mini volley, quindi quello è stato un bel momento, insomma vinciamo tornei, vinciamo dappertutto insomma. Un altro bel momento è stato a Montrotondo con l'Atletico Wisp, credo sia Under-16 o Under-18 dove abbiamo raggiunto le finali provinciali, dove abbiamo giocato appunto le finali provinciali al palazzetto dello Sport a Roma, un'esperienza bellissima, diciamo una palestra, non si è po' chiama palestra, è un palazzetto appunto dove praticamente io che facevo il palleggiatore mi alzavo la testa per aria e praticamente per quanto era alto ti girava la testa, è stato bello, poi vabbè siamo arrivati a secondi insomma, però quella è stata un'altra bella esperienza, brutta esperienza è stata l'ultimo anno che ho fatto agonismo dove diciamo c'era più, io almeno non mi sono trovato bene con i compagni, insomma non mi trovo a mio agio e alla fine ho dovuto lasciare appunto più che altro per questo motivo l'attività agonistica, prettamente agonistica del De Pallabolo. Poi dopo comunque un altro bel momento con gli Spikers è quando abbiamo vinto l'anno scorso il torneo Appio, è stato un momento un po' particolare che sinceramente non mi aspettavo, neanche quando avevamo vinto mi ricordavo insomma che doveva alzare la coppa, comunque non mi ricordavo più niente, è stata proprio una bella soddisfazione. Per il resto diciamo altre cose con gli Spikers, altre partite che sono entrate nella storia come per esempio la partita a Subbiago dove perdiamo 2 a 0, abbiamo soprattutto il primo derby al palazzetto dove c'erano più di 100 persone, quelli sono proprio i bei momenti di questo sport e i bei momenti che io mi ricordo. Momento brutto con gli Spikers è stato una partita in particolare contro il Balduina se non ricordo male il secondo anno che abbiamo fatto l'amatoriale dove è stata forse la partita più brutta in assoluto, dove siamo riusciti a perdere in casa in maniera inspiegabile, lì proprio c'è stata forse la delusione più amara. Quest'anno però, appunto proprio per passare da un estremo all'altro, sembra che quest'anno la squadra però sembra sia più competitiva. Tu personalmente come la vedi hai l'impressione che questa squadra possa raggiungere traguardi importanti o almeno lottare per fare ciò? Io penso che quantomeno noi dobbiamo porci un minimo di obiettivi, come arrivare anche soltanto ai quarti di finale come l'anno scorso, insomma sarebbe già importante almeno eguagliare quello che abbiamo fatto. Però certo, la voglia comunque di vincere, di giocare bene, soprattutto di usare la testa e quello sarà l'elemento fondamentale per noi. La tecnica c'è quest'anno mai come negli anni passati. Se riusciamo a dosare queste due cose, quindi tecnica e testa, potremmo andare lontano. L'importante però è che il gruppo sia sereno. Durante l'avvento del Minister Di Giulio abbiamo potuto notare nei suoi due anni e mezzo, ormai tre anni, che hai giocato in tre quattro ruoli diversi, dimostrando di poter essere comunque un elemento molto versatile ed utile alla squadra. Ma se dovessi scegliere un solo ruolo, quale ruolo sceglieresti? Nel senso, qual è il ruolo dove sai veramente di poter dare il 100%, dove sei sicuro di poter essere decisivo e importante per la squadra? Una domanda con una risposta abbastanza anche facile da intuire. Chiaramente il ruolo di palleggiatore è il ruolo che preferisco, che prediligo, perché comunque l'ho fatto ogni dieci anni addietro, prima di entrare a fare l'amatoriale. Quindi mi sento più di aiuto alla squadra, giocando come palleggiatore. Però poi in questi due anni ho anche cominciato ad apprezzare il fatto di poter attaccare. Ero un po' timoroso nell'attaccare perché quando fai una cosa che non hai mai fatto hai un po' di dubbi. Però in questi due anni dove ho fatto martello, posto e l'anno scorso centrale ho cominciato anche ad apprezzare questi ruoli e anche dall'altra parte a capire quello che vogliono i compagni quando io sto in alzata, magari il centrale vuole una determinata palla, la banda vuole una determinata palla, l'opposto un'altra. Quindi forse mi sento un po' più completo e ringrazio il mister che mi ha fatto giocare in questi posti in campo diversi da quello che alla fine prediligo. Bene, allora direi che possiamo anche chiudere qui l'intervista, anche perché si è fatta un'ora un po' tarda. Ti facciamo un grande bocca al lupo per l'inizio della stagione, sperando che tu e la tua squadra possiate raggiungere i dettaguardi da voi prefissati. Grazie a voi. A presto e grazie ancora. Sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.